ciao ragazzi sono michele di supermobile.it oggi vi voglio parlare di una nuova funzionalità importante introdotta da whatsapp nel suo ultimo aggiornamento sull'opera iphone in pratica è possibile sbloccare l'applicazione sfruttando il touch id o il face id a seconda del modello che avete entrando nel menu impostazioni selezionate account poi andate cliccate su privacy dentro privacy scrollate in basso e cliccate su blocca schermo vedete qui c'è potete attivare l'opzione richiedi touch id selezionatelo e sotto vedete che potete impostare dopo quanto tempo l'applicazione possa richiedere di essere sbloccata attraverso l'autostaticazione di touch id o face id immediatamente dopo un minuto dopo 15 dopo un'ora selezioniamo immediatamente facciamo un test guardate sono uscito rientro e vi richiede il touch id adesso riproviamo ecco qua ecco qua il touch id